Senza scipola ovviamente Ah raga vi spammo un po' la clip della ruspa oggi in chat Un attimo Sto andando a prendere dal mio profilo facebook che l'ho condivisa Doppio occhiale ragazzi Eccola qua Guardatela pure E divertitevi Padania simulator No no piccante Zach più che altro perché mi dà fastidio lo stomaco Magari poco poco piccante non sarebbe male ma Di solito al che babbaro dici piccante E dopo ti brucia il culo quando vai a ca... E quindi non è il caso insomma almeno non per me Lo start ragazzi lo conosciamo tutti bene Andiamo Noi niente sugare Ne tanto non serve Devo farmare tanto perché devo farmi fu... Ma questo è vegar support Con il grasp È lui ragazzi Rammus col Thunderlord Un flash 2 flash 2 flash e heal Eh Trasblood di Soraka Ma se andassi tipo adesso cosa succede? Double kill di Soraka Il flash di cassa Cioè guarda guarda Un flash 4 flash e un heal Soraka rush a ardent Una kill ha presa a Riven Unlucky Ah l'unica kill l'ha presa a Riven Vabbè dai Amen Ah ma io non sono contro di me Si si sgomberà Basta Vai a fare il rom da qualche altra parte Bravo Matteo diglielo Adesso a Kennen lo facciamo sgombrare State tranquilli Purtroppo contro i lui Mi dovrò per forza fare le scarpe Le Mercury Altrimenti prendo troppo il cazzo Sapessi... Avesse saputo che c'era lui Prendevo mannaggia il... Il Doran Shield Vabbè dai Sti cazzi Abbiamo il cazzo duro Cosa ce ne fotte a noi? Ok Vedete noi guadagniamo 3 HP ogni attacco base Credete che abbiamo paura di un po' di POC? Assolutamente no Oh cazzo No cazzo non mi puoi dire così Cioè prima eri legendary Vabbè dai sarà un diesel Tra un po' recupera Cassadin E buonanotte a tutti Oh ma sti cazzo dei minion qua Eh? Mi sa che mi maxo la Q contro di lui Sapete? Mi maxo la Q perché dovrò saltargli addosso Non lo so adesso ci penso La E fa più danno Però la Q Ma ci prendiamo il Doran Shield Prendiamo anche la refillable Va bene va bene Sì ci maxiamo la Q Così lo raggiungiamo easy Ecco perfetto Gli facciamo un bel po' di danno E scarpe ovviamente Magic Resist Oh ma Storamus con il Thunderlord Vogliamo parlarne Un po' troppo forte eh Per i miei gusti Noi dobbiamo farmare il più possibile Così Da sfruttare il Kull La Q fa veramente tanto danno Perfetto Rospiamo meglio le torri così Fare il sub a te Grazie Patrice Così potrei spammare anche te I comandi di Salvini e della signora Anna Mi fate qualche comando in chat Che è da un po' che non li sento Mi mancano Aspetta che io non posso stare tanto tempo senza Matteo Cioè devo sentire la sua voce Eccolo qua Il numero dall'elenco is the way Chiamata Casis for boys Numero dall'elenco is for men Signora Anna è morta is for God Grande al B-Killer Bella Dado Fare il comando con Matteo A Matteo HS Ah HS Basta che vai sul suo canale Ce ne sono finché vuoi Devo farteli io Cioè Noi mandiamo una letterina a questi signori dicendo Fra tre mesi si sgombera Fra tre mesi qua arrivano le ruspe Vabbè Ma era la ulti di Warwick Ah no non ce l'aveva Logico Ho preso un sacco di minion per sta cazzata Però vabbè dai Sti cazzi Ottimo paletta Ecco fatto Oppala No L'ignite Ah paletta a sto punto mi presento Sono uno streamer Ex Diamond Che ormai Ultalo No No balls Vabbè sono conosciuto come re del troll Perché praticamente Trollo tutti i game Con lo smurf E principalmente li vinco tipo Adesso stai guardando Eeeh Il gara in full critico Ecco Ah e comunque sono i ranked Sì ovviamente E questa gente qua è molto felice Di vedere come gioco C'è 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 cassa di che mi consiglia anche come trollare meglio Come farmi Garne a D in un certo modo Nelle sue ranked Ma tanto non ce ne frega un cazzo Perché sappiamo già che vinciamo Ciccio bello and'andato Go away Mamma mia Visto che ieri Ho mangiato tre kebab Mi sono detto Prendiamo un champion Ho bisogno di questo ricordo di kebab Praticamente di sapere che Garne L'animazione del critico di Garne E' quando infilza così la spara praticamente Quindi mi ricorda il kebab Ieri ne ho mangiati tre Ecco hai visto l'animazione E' quella lì Ricorda tanto il kebab Almeno a me Ah Soraka ragazzi mi aveva fullato Aveva visto che ero in difficoltà Eh perfetto Vedo che ha funzionato Un teleport in bot Quante kill mi porta Vediamo un po' Nessuna Perché non c'è nulla Su cui ti pare Usa lei? Non l'ha usata Ha molta fiducia in lui evidentemente Ecco ho visto il kebab Ecco ho visto il kebab Via Grande Cassadin Bella Taro Bella Taro Stop pushing vabbè Poi due quattro Non so di cosa si sta lamentando Che build sta facendo? Una build che non conosco Io l'ho detto Ah è 3-0 Ah è 3-0 quello lì Vediamo tutti i CS Per queste call Completamente randomiche Fra tre mesi si sgomberà Basta Vai a fare il rom da qualche altra parte Adesso lo prendo io se permetti Grazie Sto Warwick ragazzi fa un po' schifo eh Aveva un milione di gold anche lui Ragazzi State tranquilli Abbiamo lo static Riven ha rotto il cazzo abbastanza tempo In top lane Ma non importa Abbiamo lo static State tranquilli Fidatevi di me Adesso cambierà tutto Ah Riven vuole proprio pushare Vuole Esige Purtroppo la torre non la salvo Però vabbè Non importa Jinx just need the items È come tutti gli AD carry Pensate voi Purtroppo ragazzi Riven ci ha rovinato la top lane Ma noi non importa Adesso ovviamente senza ulti Non li ingaggiamo Garen fa cagare Fa cagare Ah Qualcos'è il primo Top lane Gare è un buon pick Sì Paolo Allora devi prenderlo Poi Anzi guarda ti faccio vedere Mi scusi Ecco Abbiamo dato il cazzo Ah ma io c'ho L'herald Guarda Paolo Osservi Eh scherzavo Ma c'è Riven Grazie Wait wait Abbiate fiducia in me Regà l'attiva della static Via La sapevate questa La sapevate questa Dell'attiva della static Regà è vero Guardate l'attiva della static Se questo non mi caga il cazzo Allora Vedete quel minion lì Guardate Guarda Paolo Ecco Lo sai fare te Paolo Questo Lo sai fare Eh Sai usare l'attiva della static Come me Guardate la faccio Non c'è capito un cazzo Vero Guarda Fuck Mi sa tolmina Ti dava off Pat Twitch ha fatto bene Lo sai anche te Non puoi più seguire Da quando Califa Fai il gameplay su Twitch Perché non sono meglio No capito Non ci avete capito Un cazzo Vero Get Botrack Osservate Vi farò vedere L'attiva della static Anzi no Se killo lui Non facciamo prima Bravo Ottima idea Spero che abbiate capito Il funzionamento Dell'attiva della static Ragazzi Non voglio più farvela vedere Perché costa Udnico In confronto a Feric È more Lui la conosce L'attiva della static Secondo voi Scusa Tu la conosce L'attiva della static L'ha conosciuta Ottima chiamata di zio Adesso Grande Fieric Ah Grazie Bello fresco Grazie a donation 10 euro Troppo gentile Spero che L'attiva dello static In testa Kennen ti sia piaciuta Oh no Non ce l'ho più Non ce l'ho più L'attiva dello static È scaduta Vieni qua Ah sarà meglio Adesso costa solo un RP Andre ne serve russo Posso farmi un altro account Per piazzarlo Non lo so Boh Ma troppi stun Ci facciamo queste Perché siamo in quasi 500 ragazzi Sono finiti le LCS Ma è successo O perché sto giocando gara in full crit Avevo fatto l'attiva della static È per l'attiva della static Dite la verità ragazzi Volevate Volevate vedere Assolutamente Raga posso mettere le dimostrazioni Dell'attiva dello static Tipo a pagamento Ah Basket for life Ho capito È per quello quindi Cioè è aperto Sono finiti le LCS Però hai sentito Hai visto che giocavo Garen Hai Per logica Intuito che avevi utilizzato L'attiva dello static E via così Andiamo Posso fare delle kill In tutto ciò No Sono tutti morti Pertroppo faccio poco danno Perché ho maxato la Q Via Via Non posso difendere da solo Pertroppo Quanto vi manca Quanto vi manca Adesso no Adesso no Perché a metà game Insomma Non si fa Dopo sì State tranquilli ragazzi Scusate se ancora È da un po' che non la vedete Ma me la metto Che è sto dive qua È randomico Oh my My god Raga Soraka Just Soraka L'ambulanza di turn No non mettiamolo lì Che la tolgono facilmente È un'ottima call questa Esatto Esatto basket Eh ne ho tanti Già non gioco con loro Non faccio 20 con i sub Almeno i comandi Li lascio a spammare solo a loro Mi sembra al minimo Anche perché poi Li spammano di continuo Quindi voglio dire Non è che ci perdete qualcosa Se non la soddisfazione E poterli spammare Vedi mi criticavano Ah you need sustain Bla 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 Per favore Lasciatemi giocare Il mio gara in full crit Ok Ecco Così la Q farà più danno Il tuo pc Sarà avanti Che dietro Ma è sotto la scrivania Come faccio Grazie Sorry È troppo gentile Ma dice che sei off Io sono on Tanto Twitch Lo sapete bene Che funziona Che è una meraviglia C'è qualcuno qui C'è qualcuno qui Basta Non potevo girarmi Stavo tipo al bordino Lì Ah Bella Legends Mobot non funziona più Cazzi suoi Se non vuole funzionare Non funzioni Tanto ormai C'ho Sissiobot E il Mobot Può accompagnare solo Ottimo Rospaggio Ragazzi Bravi That's quick Oh Voleva esserci anche Mauri per quello Comunque oggi esce Ah no è già uscito Ecco perché me l'hai detto Che ci penso No grid No 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 grid No Spammate le ruspe Please Buonasera Blackjack Nella nostra Italia Non c'è spazio Per i campi Attiva dello static Via Arrivo ragazzi Ciao bandit Grazie delle ruspe George Questo lo vuole qualcuno Lo prendo io Vai Jinx Non sembra interessata Perfetto Ottimo Qualcuno non ha fightato Ragazzi Sparisce Finish addirittura Come facciamo A finire Ma non abbiamo Manco le torri Manco i minion Stai lì Te Chi non guarda La build Non capisce Ignoranti Ah vero Micchia Potrò tippare Ma non me ne me che accordi Vabbè Forse non ce l'avrei fatta Comunque Non lo so Questi cazzi Ecco Non diamo una letterina A questi signori Dicendo Fra tre mesi Si sgombera Non è il caso Ragazzi Fra tre mesi Qua arrivano le ruspe Ruspe per tutti Esatto Fra tre mesi Si sgomberà Basta Vai a fare Il rom Da qualche altra parte E' felice che dirà da Pieric Tipi top Ma Ma Quanto gli ho tolto Vabbè era potenziato Dalla Trinity Aaaaa Basta Sì Il trinket di merda ancora Un attimo C'ho il muri davanti Se solo potessi raggiungerla Via Martellata Vabbè Vagar for flame Ma Vagar non serve a niente Questo Vagar Mamma mia Pizzeria Boh Cassadin Dai come l'altra volta Ce lo tiriamo un onore Cassadin S su Garin Ah Grafico dei danni Ah Vabbè Cassadin Quello di prima Del resto Va bene così Va bene così Sono le nove